Troppo pochi i punti nascita previsti nella provincia di Lecce da un piano iniguo che agevola Bari e penalizza il Salento. Così il PDL rilancia, di fronte alla rivolta del territorio e alla contesa di Campanile che si sta accendendo, specie sui cinque punti nascita previsti in provincia di Lecce. Lecce e Tricase, che nessuno mette in discussione, Copertino, Scorrano e Galatina, su cui invece si sono accese le critiche. Per i criteri utilizzati da un lato e per la distribuzione territoriale dall'altro, che lascia scoperta la fascia ionica. Con i reparti di ostetricia e ginecologia di Casarano e Gallipoli destinati alla chiusura. E quello di Nardò già chiuso. Una cosa hanno ripetuto fino alla nausea il presidente Nichi Vendola e l'assessore Ettore Attolini. Cambiare si può, ma saldi invariati. Come dire che per tenere aperto Casarano o Gallipoli occorre chiudere Scorrano o Galatina o Copertino. E' proprio a rovesciare questa logica che punta il PDL leccese, parlando di piano iniguo che favorisce Bari e strozza Lecce. Uno per tutti i punti nascita che nella provincia di Bari sono distribuiti in relazione un punto nascita ogni 120.000 abitanti. Qui nel Salento un punto nascita ogni 160.000 abitanti. Ed è questo che a partire dal 2 luglio in consiglio provinciale noi denunceremo perché anche gli uomini del centro-sinistra salentino si rendano conto che è un piano di riordino sanitario che assolutamente non fa bene al Salento. Il capogruppo PDL Rocco Palese promette battaglia nella Commissione regionale sanità che tornerà a riunirsi il 2 luglio e alla quale sono demandate le eventuali variazioni al piano. E poi batte su un altro punto, il destino dei sei ospedali chiusi dalla regione Puglia in provincia di Lecce. Non solo Nardò, ma anche Campi, San Cesario, Maglie, Poggiardo e Galliano del Capo. In sette anni e mezzo solo nella provincia di Lecce Vendola chiude sei ospedali. Noi non li avremmo chiusi. In regione chiude 21 ospedali. Non li avremmo mai chiusi. La nostra proposta era di trasformare questi ospedali in ospedali territoriali. Guarda caso esattamente quello che dice oggi la CGL che si lamenta che non c'è nessun segnale in sette anni e mezzo di potenziamento del territorio, di alternativa di prestazioni sanitarie per quello che dovevano essere prima con gli ospedali e dopo successivamente col territorio. Lo scontro si riannuncia rovente come la temperatura di questo inizio d'estate e la pace armata che sembrava regnare nell'ultimo anno fra centrosinistra e centrodestra in via Capruzzi sembra destinata a rompersi proprio sul più caldo dei temi, quello che ha sempre deciso, fortune e sfortune, elettorali in regione, la sanità.